Cominciamo, dicevo, con Alessandro Rimassa. Alessandro Rimassa è stato fondatore di Talent Garden, co-fondatore di Talent Garden, e nel preparare questo incontro gli ho detto, cosa stai facendo adesso? Sto scrivendo un libro e quando lo pubblichi ai primi di ottobre, allora il libro eccolo qua, ho detto vieni a raccontarci che cosa hai fatto, cosa hai scritto e perché hai scritto questo libro, che ha ad oggetto proprio il tema del futuro del lavoro, quindi il titolo è Company Culture, e comincerà lui, a ciascuno abbiamo dato 10-12 minuti, come a tutti, con l'obiettivo di aiutarci ad entrare un po' dentro il tema dell'impresa del lavoro di domani. Noi abbiamo immaginato che il lavoro di domani si ancori a tre parole chiave. Uno è green, ma non nel senso di sostenibilità, come abbiamo sentito, ma proprio nel senso di sostenibilità etica. Uno è healthy, nel senso di salute e star bene delle persone, lo abbiamo capito quanto importante è in questa fase, e uno è fair, che è correttezza, equità, trasparenza e queste sono le tre parole chiave per noi nel prossimo futuro. Lascio la parola adesso ad Alessandro, può stare in piedi, può fare quello che crede, ha preparato il suo intervento e a te presentare anche il tuo intervento. Grazie, grazie. Va bene, allora sto in piedi che sono più comodo e soprattutto più vicino a voi. Allora, la riflessione che voglio condividere con voi questo pomeriggio è la riflessione su come cambia il nostro modo di organizzare il lavoro. La maggior parte di voi sono HR, si occupano della propria organizzazione del lavoro e dell'organizzazione del lavoro delle altre persone in un momento in cui sostanzialmente cambia tutto. Tant'è che io ho scritto un libro, l'ho scritto durante il lockdown con, come dire, dietro di me la quarta rivoluzione industriale, la digital transformation, il cambiamento che stavamo vivendo e a fianco a me questo imprevisto o altro pezzo di cambiamento che io credo vada affrontato, come sentivo anche in alcuni interventi prima, com'è? Cioè noi non possiamo cambiare la situazione in cui siamo, non possiamo toglierci oggi la mascherina o far finta di niente, ma possiamo sfruttare al meglio la situazione non positiva in cui siamo capitati. Ecco, il contesto in cui siamo è quello che è attorno a noi è quello di un mondo del lavoro che ha necessità urgente di cambiare ma che parte da alcune basi che sostanzialmente sono quelle che ci hanno portato qui fino a oggi. Regole, procedure, burocrazia, politica interna in aziende che sostanzialmente sono state da sempre basate sul controllo che a mio modo di vedere significa mancanza di flessibilità. È vero che abbiamo sentito anche negli interventi precedenti casi di imprese che si comportano in maniera differente, è vero che probabilmente anche noi nelle nostre aziende stiamo vedendo e stiamo giocando una sfida di cambiamento, è altrettanto vero che, dobbiamo dircelo, dobbiamo direttamente delle imprese sono basate su queste cose. Quando si sente parlare, lo abbiamo visto anche prima, della policy di Netflix sui viaggi che è una non policy, una non regola, una non procedura perché sostanzialmente la frase dice spendi quanto spenderesti se fossero soldi tuoi, si dice beh sì lì può succedere da noi no. Quando poi andiamo ad analizzare le spese di viaggi in tutte le nostre aziende scopriamo che sono esattamente quanto avevamo preventivato all'inizio dell'anno, cioè è esattamente il massimo che si poteva spendere, se noi diciamo ai nostri dipendenti che il massimo spendibile per una cena è 50 euro scopriremo meravigliosamente alla fine che tutti i nostri dipendenti hanno speso una media di 49 euro e 90 centesimi. C'è un caso straordinario di un'azienda non piccola che è Volvo che alcuni anni fa ha tolto la policy per le spese di viaggio e l'anno successivo ha avuto un risparmio di oltre il 30%, perché? Perché le persone hanno iniziato a spendere probabilmente con senso, c'è un caso di una piccola azienda che conosco bene che ha diverse sedi in giro per l'Europa, una media azienda in cui a un certo punto è stata fatta una policy di viaggio, prima non c'era, quella policy di viaggio diceva che chi di quell'azienda doveva andare a Stoccolma poteva spendere massimo 140 euro a notte per l'hotel, che cosa è successo? Che per sei mesi all'anno le persone di quell'azienda non sono più potute andare a Stoccolma perché con 140 euro in una notte non dormivi e gli altri sei mesi hanno iniziato a spendere 140 euro quando invece precedentemente ne spendevano circa 90 perché in quell'altro pezzo dell'anno gli alberghi costano molto di meno ma potendo spendere 140 euro quelle persone hanno iniziato in effetti a spendere il massimo. Questo è il sistema in cui ci troviamo, la quarta rivoluzione industriale, la digital transformation ci ha portato parole d'ordine diverse, collaborazione, velocità, flessibilità, pensare digitale e a quel punto probabilmente molti di noi hanno iniziato a cercare di immaginare come ridisegnare il modo di lavorare ma di fatto poco è accaduto. Poi è arrivato l'emergenza Covid e abbiamo iniziato una volta che abbiamo capito che non sarebbe stata una cosa a breve a parlare di New Normal con l'idea che poi un New Normal in questo settembre ci sarebbe stato, siamo all'inizio di ottobre e abbiamo scoperto che non c'era un New Normal a settembre ma che era un cambiamento continuo e interpretare una sfida che si modificava di giorno in giorno nell'incertezza, nell'idea che ci fosse una crisi ma nell'idea che dovessimo occuparci delle nostre persone, alcune per riqualificarle all'interno dell'azienda in ruoli diverse, altre per aiutarle magari a cambiare azienda quando eravamo in un momento di grande cambiamento. La domanda che io vi pongo in maniera naturalmente provocatoria è vogliamo ricostruire il modo di lavorare esattamente come era prima? Vi faccio riflettere su questo, immaginiamoci per un attimo costruttori di palazzi, di case e immaginiamo di aver imparato nel tempo a costruire i palazzi e le case sempre nella stessa maniera, quindi piloni di cemento armato e poi costruire i piani uno via l'altro. Lo facevamo su un terreno stabile, adesso però siamo su un terreno sismico, possiamo costruire le case nella stessa maniera del passato? La risposta è ovviamente no, perché quei piloni costruiti e messi a terra come nel passato cadrebbero a terra. Quando siamo in un terreno sismico dobbiamo capire che ci sono altri modi per costruire le case e dobbiamo imparare, sperimentare. Per me quel modo si chiama company culture, si chiama cultura aziendale, si chiama valori e purpose anziché regole e processi. È più difficile, è più sfidante, ci mette in gioco ogni giorno? La risposta è sì, ovviamente sì, ma non possiamo scegliere di non giocare una partita quando sappiamo per certo che come facevamo prima oggi non può più funzionare. La company culture è ciò che connette alla fine le persone e le aziende, intendendo poi le aziende come somma di persone. Ognuno di noi gioca un ruolo diverso all'interno dell'azienda, ma anche quando sei il capo delle HR, sei una prima linea o sei l'amministratore delegato, di fatto sei sempre una persona che sta in un contesto con altre persone. Il nostro scopo alla fine come HR è uno soltanto, attrarre e trattenere le persone migliori, perché noi possiamo anche avere il prodotto migliore del mondo, ma senza le persone migliori difficilmente riusciremo a far crescere quel prodotto e a farlo crescere sul mercato. E allora dobbiamo costruire aziende basate su valori condivisi. Io nel libro company culture dico che ognuno può costruire la sua cultura aziendale, ma non si può prescindere da trust and transparency, non si può prescindere da fiducia e trasparenza, perché senza fiducia e senza trasparenza non riesce a costruire nuove relazioni all'interno dell'azienda e se non riesci a costruire quel tipo di nuove relazioni all'interno dell'azienda tendenzialmente non riuscirai ad attrarre le persone migliori e non riuscirai a trattenere le persone migliori. Per farlo poi hai bisogno di ascolto, hai bisogno di occuparti del benessere delle persone perché quello diventa un elemento centrale affiancato alla retribuzione che non è più l'unico elemento che le persone si aspettano. Quando parlo di persone non parlo in particolare di nuove generazioni, io credo che le nuove generazioni, millennials e generazione Z siano pervasivi ma poi generazione come la mia, generazione X o anche BB Boomers alla fine sono ispirati dalle nuove generazioni e quindi queste cose tra cui anche co-creazione e quindi co-progettazione del modo di lavorare diventano qualcosa che di fatto tocca tutti noi e dobbiamo quando ci occupiamo di persone immaginare che queste persone devono diventare leader e non intendo leader come sostitutivo della parola manager, intendo leader come sostitutivo della parola persone all'interno dell'azienda perché tutti dobbiamo diventare leader in una gestione, in una relazione all'interno dell'azienda che cambia di continuo. Ci siamo trovati durante il Covid e siamo ancora oggi con una pagina bianca davanti a noi che è la nostra autogestione, tutto quello che è self-management, abbiamo scoperto di avere bisogno di una serie di competenze che non erano solo quelle che probabilmente ci aspettavamo fino al giorno prima perché ci siamo trovati a giocare anche partite a ruoli diversi all'interno dell'azienda, abbiamo scoperto che la creatività che dovrebbe essere parte del nostro DNA è al centro di quello che dobbiamo fare e che abbiamo bisogno di una mentalità di continua crescita per sfidare l'ignoto che sostanzialmente è quello con cui giochiamo continuamente oggi. Abbiamo scoperto alla fine che in un certo qual modo tutti noi dobbiamo essere imprenditori in azienda senza sostituire l'imprenditore ma prendendo questo termine e trasformandolo in quella parola che è intraprendente, imprenditivo, gli americani dicono intrapreneur versus entrepreneur che è una caratteristica fondamentale dell'affrontare il modo di lavorare e chi si occupa di HR ha scoperto al tempo stesso che deve interpretare la figura in una maniera diversa perché l'HR non è più solo un gestore di altre persone ma deve essere a fianco dell'amministratore delegato quello che agisce nel cambiamento continuo dell'azienda. Io credo sinceramente che la figura dell'HR come l'abbiamo vista fino all'altro ieri sia una figura che tendenzialmente diventa totalmente inutile in azienda perché quando è semplicemente un gestore può essere ben sostituita da un software ma io credo al tempo stesso che l'HR sia una figura fondamentale all'interno delle nostre aziende oggi perché se dobbiamo puntare sulle persone non possiamo farlo senza coloro che di persone si devono occupare ma questa figura si deve trasformare deve diventare un marketer perché deve riuscire ad andare a prendere le persone sul mercato deve riuscire a ingaggiarle deve diventare un user experience designer perché deve costruire delle employee experience esattamente pensate come quando pensiamo alla customer experience quindi considerando le persone in azienda come dei nostri consumatori come dei nostri clienti deve saper analizzare i dati per capire come far funzionare meglio le persone all'interno dell'azienda e alla fine deve essere quello che a fianco della prima linea a fianco dell'amministratore delegato agisce da continuo agente del cambiamento. In questo modo la company culture diventa non solo il valore alla base dell'azienda e il sistema operativo alla base dell'azienda ma quello che permette di coniugare queste due parole felicità e produttività persone più felici saranno più produttive persone più produttive riusciranno a essere più felici anche fuori dal lavoro persone più felici e più produttive saranno più legate alla nostra azienda e concorreranno maggiormente al successo. Ecco il punto è che però dobbiamo pensarci all'interno delle aziende come dei gruppi e quindi non è che noi siamo qui non è che tu io e qualcun altro è qui ma è che l'organizzazione è qui in questo momento e che vuol dire costruire aziende basate su fiducia e trasparenza e sperimentare un new normal che non era quello di settembre non sarà quello di ottobre probabilmente non sarà neanche quello del prossimo febbraio ma avremo davanti un 18-24 mesi di continua sperimentazione. È un po' quello che volevo condividere con voi, quello che ho scritto in questo libro che si intitola Company Culture che ho portato all'interno di un progetto nuovo che si chiama Changers che è una community che abbiamo lanciato da poco proprio per mettere insieme persone che hanno voglia di essere protagonisti di un cambiamento continuo e che quindi interpretano la crescita e la trasformazione professionale non come qualcosa che interessa sempre a qualcun altro ma come qualcosa che ci tocca a tutti se avete voglia di approfondire poi sul mio sito internet alessandrorimassa.com trovate tutto questo è un po' quello che volevo raccontarvi con una sfida che non è una sfida ma secondo me è l'unica partita che possiamo giocare o agiamo per il cambiamento nostro e delle nostre aziende nella quotidianità o tendenzialmente quelle nostre aziende domani non ci saranno più e anche noi saremo in difficoltà nel capire qual è la sfida che possiamo giocare ecco giocate secondo me è un imperativo importante ieri è scomparso un grande filosofo italiano che si chiama Franco Bolelli aveva scritto un libro straordinario che si intitolava giocate il mio invito è giocate con il new normal del lavoro giocate con le vostre aziende giocate con le vostre persone perché solo così potremo costruire un senso del lavoro realmente partecipato e solo così quel senso del lavoro genererà la crescita del business grazie 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 grazie